Cari amici di Meteo Giuliacci, un saluto da Giuseppe De Vitis. Due azioni, quella calda che proviene dal Nord Africa e interessa in maniera diretta il centro e soprattutto l'estremo sud, Sicilia, Calabria, e quella meno calda, un po' più fresca, in quota, e non solo in quota, che sta e ha già instabilizzato il tempo al nord. E guardate, anche nella giornata di domenica ci sarà un miglioramento rispetto alla giornata di sabato, però il rischio nelle ore centrali del giorno di qualche acquazzone sulla Liguria e sui rilievi alpini e prealpini c'è, però sulle zone di pianura invece è situazione decisamente più tranquilla. Il tempo sarà molto tranquillo e anche molto caldo sulle due isole maggiori, su tutte le regioni centrali e all'estremo sud. In Sicilia valori anche attorno, e non solo, anche attorno ai 38-39 gradi. Insomma, prepariamoci perché sarà un'Italia ancora divisa in due, però rispetto alla giornata di sabato, seppur con qualche rovescio di pioggia, e lo abbiamo visto, migliorerà un po' al nord. Arrivederci.